come asola e bottone la vostra personalità è una goccia che evapora ad ogni incarnazione a cura di vb inseparabili mara e orietta erano davvero inseparabili come asola il bottone come piede scarpa come vento e aquilone da tre anni a scuola sempre lo stesso posto terzo banco della fila centrale era come se ci avessero messo l'ipoteca su quel posto nell'aula sempre uguale umida e odorosa di calcina mara e orietta vivevano in periferia tra i prefabbricati e i ciuffi d'erba nelle strade d'inverno la pioggia si infiltrava e creava pantani in cui le ragazze affondavano gli stivali di gomma colorata abitavano nello stesso stabile un palazzone uguale a tanti in un immenso quartiere dormitorio scarsamente illuminato dove gli sbadigli si mescolavano alle imprecazioni entrambe fin da piccole erano state abituate ad essere grandi il padre di mara gestiva un piccolo bar frequentato dagli operai del quartiere d'inverno dietro la vetrina appannata dei cornetti i clienti ingannavano il freddo parlando ad alta voce mentre mandavano giù un baby o un caffè corretto al room la madre di mara lavorava come donna delle pulizie in una banca del centro quando smetteva di lavorare aiutava il marito al bar tanto a casa c'era mara che preparava da mangiare e badava ai fratelli più piccoli orietta invece era figlia unica suo padre era trapassato dieci anni prima in un incidente col camion ed erano rimaste sole lei e la madre che adesso gestiva un'edicola di giornali orietta era cresciuta gracile e taciturna sorrideva di rado solo con le labbra mentre i suoi grandi occhi a mandorla rischiaravano un viso adulto e volitivo scriveva racconti sapeva usare bene la penna le righe le uscivano ironiche e veloci nei compiti in classe spesso passava ai compagni cinque o sei temi diversi com'era diversa orietta da mara questa così spensierata e quasi una donna ormai era proprio questa diversità che le teneva unite erano complementari l'una dell'altra orietta considerava mara un po come la sorella che avrebbe voluto avere l'amica le dava serenità e allegria accanto a lei provava una sensazione di benessere le ore di scuola volavano tra le chiacchiere le confidenze e le risate soffocate per un altro verso mara guidava orietta le aveva insegnato a giocarsi nascosta nei bagni della scuola durante l'intervallo aveva provato ad acconciarli in cento modi i capelli lunghi e sempre uguali mara parlava spesso della sua famiglia di sua madre e dei fratellini che ogni mattina lei doveva lavare e vestire e di suo padre che giocava alla schedina ogni settimana che se avesse vinto l'avrebbe smessa con quella vita però non vinceva mai della sua famiglia orietta cosa avrebbe potuto dire scomparso il padre del quale ricordava solo che la portava sulle spalle e le dava i pizzicotti sulle cosce la sua famiglia era sua madre sempre ansiosa e grigia sempre di malumore orietta pensava alla sua famiglia come a una giornata di nebbia e poi a casa la madre non c'era mai la sera dopo la chiusura dell'edicola sprofondava in poltrona davanti alla televisione e a pranzo orietta trovava sempre in cucina un piatto freddo anche la domenica mentre ingoiava bocconi conditi dalla noia pensava a mara ai piatti colorati che avrebbe preparato sempre diversi come i suoi capelli così con la scusa dei compiti che le doveva far copiare appena poteva orietta si rifugiava a casa dell'amica si lasciava avvolgere da quell'atmosfera calda chiassosa che sapeva di cucina di scapaccioni e di risate spesso la domenica pomeriggio mare e orietta assieme a un gruppo di coetanei passavano alcune ore nella spelonca a pochi metri da casa in realtà si trattava di una vecchia rimessa arredata alla meglio con poche sedie un tavolino e tanti poster alle pareti qualcuno portava un mangianastri e si ballava si ascoltava la musica o si fumava si entrava da una porta bassa che dava su un cortile così non dovevano tirare sulla saracinesca sulla strada esposti agli sguardi dei curiosi presto all'atmosfera si impregnava del fumo delle sigarette allora la porticina era lasciata aperta anche d'inverno per consentire il ricambio dell'aria all'inizio era stata mara a trascenare orietta nella spelonca lei conosceva quasi tutti e poi quale modo migliore per rompere la monotonia del giorno di festa ormai per orietta era diventata una piacevole abitudine quasi una necessità le poche volte che la domenica restava a casa sedeva imbambolata davanti alla tv oppure si chiudeva in camera sua a scrivere per evitare le domande della madre una domenica dopo l'altra orietta cresceva adesso il trucco era un po più forte la mano più sicura i capelli meno uguali si chiudeva per delle ore in bagno a provare un nuovo trucco per gli occhi e uno shampoo che dava ai suoi capelli riflessi ramati sua madre la guardava sospettosa ma si limitava a scuotere la testa per sostenere una discussione con sua figlia non avrebbe saputo da che parte incominciare una domenica di febbraio mara aspettò come al solito al portone che orietta scendesse e appena la vide la prese sotto braccio le disse con una punta di emozione ieri al bar ho conosciuto un ragazzo meraviglioso e il nuovo rappresentante della e disse il nome di una marca di analcolici l'ho invitato per oggi alla spelonca non ti dispiace vero orietta non rispose avvertì però una spiacevole sensazione come se qualcuno le avesse rubato qualche cosa si strinse nel giaccone di pelliccia sintetica più tardi quando mara le presentò il ragazzo orietta ebbe un tuffo al cuore ma fece finta di niente il ragazzo per tutto il pomeriggio parlò con mara anche se di tanto in tanto lanciava verso orietta occhiate interessate questa restò in disparte non sapeva che cosa fare quel ragazzo le piaceva molto ma lui non si avvicinava a parte quegli sguardi di cui non capiva bene il significato orietta era irritata con se stessa e con mara per quel suo isolarsi con il nuovo venuto nessuno aveva il diritto di ignorarla così quel pomeriggio avrebbe fatto meglio a rimanere a casa quando finalmente mara si ricordò di lei e la cercò orietta non c'era più e non c'era neppure il suo giaccone di pelliccia sintetica la sera squillò il telefonino orietta era davanti allo specchio sua madre guardava una telenovela alla televisione orietta rispose con rabbia pronto sono mara volevo dirti orietta chiuse la chiamata mara rimase qualche istante col telefonino a mezz'aria poi chiuse a sua volta al sole spalle il giorno dopo a scuola il terzo banco della fila centrale resta vuoto commento per quel periodo della loro vita mara e orietta erano state complementari erano state cioè di complemento l'una serviva all'altra poi è sopraggiunta la crisi ed è stato un altro periodo della loro vita il più utile come lo era stato il primo per quello che esse erano infatti si scrive crisi ma si legge evoluzione in realtà noi crediamo di vivere una crisi ma la crisi siamo noi e quando siamo stati attraversati dalla crisi noi siamo il benefico succo della crisi